L'amatori Pescara va avanti 2-0 nella serie di semifinale contro Nardò alla Pala Elettra, finisce 85 a 78, gara 2. 20 di poti, 18 per Capitanelli, 16 per Leonzio, i migliori realizzatori di Pescara. Coach Stefano Raiola, io direi che a parte un 3 su 3 di Drigo ad inizio terzo quarto che ha permesso a Nardò di sorpassare, questa sera siete stati molto continui nell'arco dei 40 minuti. Guarda, siamo stati molto continui e se non lo fossimo stati probabilmente non avremmo vinto questa partita, perché siamo partiti fortissimo e loro sono rientrati facendo grandi giocate, gran canessi da 3 punti con Provenzano e Zampolli. Abbiamo comunque controllato il primo tempo, abbiamo finito 5 punti avanti se non mi sbaglio, dopo loro sono ripartiti fortissimo con Matias Drigo che ha fatto 3 bombe incredibili, sono i suoi tiri ma ha fatto comunque dei tiri difficili, siamo stati bravissimi a rimanere in partita, non dimentichiamoci che loro sono andati a vincere a Caserta così, stando dietro all'inizio partita e poi hanno piazzato la zampata vincente e hanno messo sotto una squadra che ha perso 3 partite su 30 in tutto il campionato. Noi siamo stati bravissimi a rimanere in partita, a difendere duro, anche se è stata una partita con un punteggio alto, ma le difese ci sono state, io penso che bisogna dare anche grande merito agli attacchi sia nostro che loro, perché abbiamo fatto dei gran canestri ed è stata una partita bellissima.